amo questo lavoro perché non non è mai banale ti permette sempre di sperimentare e di vedere come reagiscono poi le persone al tuo prodotto la tua sperimentazione ma io credo che la birra più difficile da fare sia quella più semplice credo che fare una buona pills una buona lager sia da un brewer sia da birraio professionista sia una scommessa ogni birra deve uscire come come proprio vogliamo che esca insomma è un lavoro bellissimo perché innanzitutto facciamo un prodotto che è eccezionale dove c'è tutto c'è gusto però è informale però dall'altra parte può essere anche formale se lo metti in un ristorante di livello mi dicevano ma tu a Piozzo non si beve a Piozzo non si beveva, va si beveva il vivo